Cari amici, ci vollero quasi 30 anni prima che una pubblicazione della stampa sovietica facesse luce su ciò che accadde realmente il 24 ottobre 1960 al cosmodromo di Baikonur, conosciuto anche come Turatan o NIP-5. Nel 1989 un articolo intitolato Sorok per Vaya Ploshdaka, che vuol dire sito 41, rivelò al popolo sovietico che l'esplosione di un missile balistico provocò la morte di numerose persone, tra cui alcune alte cariche dello Stato. Dai resoconti dei testimoni oculari e da alcuni documenti relativi all'incidente sono riusciti a creare una ricostruzione più o meno accurata degli eventi. Nel 1960 il leader sovietico Nikita Khrushchev attendeva con ansia l'arrivo di un'altra carta del gioco da schierare durante la guerra fredda con gli Stati Uniti, il missile ICBMR-16. Sviluppato dal collettivo del progettista Mikhail Yangel, questo nuovo missile prometteva un nuovo livello di potenza per la flotta nucleare sovietica e l'allora viceministro della difesa, nonché comandante delle forze missilistiche strategiche sovietiche Mitrofan Nedeling, sperava di consegnare a Khrushchev il primo lancio di prova prima delle celebrazioni della rivoluzione bolshevica del 7 novembre. La prima versione del missile balistico intercontinentale R-16 era un vettore composto da due stadi, lungo complessivamente dai 30,4 ai 31 metri, in base alla testata utilizzata. La gettata massima era di 11.000 km con una testata termonucleare da 6 megatoni e di 13.000 km con una testata da 3 megatoni. Con un peso al decollo di 141 tonnellate, la proporzione per staccarsi da terra era fornita dal primo stadio che poteva contare su un endoreattore RD-218 a 6 camere di combustione, più 4 piccoli RD-851 per le correzioni d'assetto. Questi bruciavano le quasi 94 tonnellate di propellente stoccate nei serbatoi del primo stadio in appena 90 secondi. Il secondo stadio utilizzava un endoreattore RD-219 a due camere di combustione e 4 RD-852 per le correzioni d'assetto. Questi bruciavano le quasi 41 tonnellate di propellente in 125 secondi. Il propellente di questi missili era liquido ed era diviso in due serbatoi per ogni stadio. Uno conteneva il carburante ipergolico di metilidrazzina asimmetrica, nota come UDMH, mentre l'altro serbatoio conteneva l'ossidante, che era acido nitrico fumante rosso, noto come RFNA, di tipo AK27I, ovvero 73% di acido nitrico e 3,27% di tetrossido di diazoto. Il particolare nome dell'ossidante è dovuto al tetrossido di diazoto, che si decompone parzialmente per formare biossido di azzoto, che dissolvendosi nel liquido fino a saturarlo produce fumi tossici rossicci con un odore pungente. Il decollo della prima versione dell'R16 avveniva da un sito in superficie chiamato Schexner-N, mediante un'apposita piattaforma di lancio. Il sistema di sollevamento era abbastanza complesso. Da un lato il camion che trasportava il missile azionava il ribaltamento dello stesso in posizione verticale, mentre dal lato opposto un altro camion era già in posizione con un rimorchio installatore. In pratica i due camion funzionavano entrambi come torri di supporto, mentre il missile era supportato dai camion veniva rifornito con due autocisterne. Dopodiché i due camion ritiravano le due torri e lasciavano il missile in piedi sulla tavola di lancio. Solo in seguito con le versioni R16U verranno lanciati da sili sotterranei. Il missile aveva una probabilità di errore circolare, CEP, di 2700 metri. Ciò significa che il 50% dei missili lanciati avrebbero centrato la zona del bersaglio all'interno della circonferenza con un raggio di 2700 metri. Nell'esempio sono stati virtualmente lanciati 20 missili. Come potete vedere 10 sono caduti all'interno della prima circonferenza. Nel settembre del 1960, nonostante molti problemi tecnici irrisolti, Yang l'autorizzò la consiglia del primo razzo numero LD1-3T al poligono di prova NIP5 a Tiuratam. In seguito i viteranni del poligono avrebbero testimoniato all'unonimità che il razzo era afflitto da problemi sino ai primi collaudi, iniziati il 26 settembre 1960 nell'edificio di assemblaggio al sito 42. La commissione di Stato, costituita per supervisionare i collaudi, si riunì il 3 ottobre 1960, scelse l'elenco del personale per il lancio e fissò ufficialmente la data del primo volo per il 23 ottobre. Il 20 ottobre, dopo alcuni problemi tecnici, principalmente del nuovissimo sistema di controllo di volo, i test del missile R-16 nell'edificio di assemblaggio del sito 42 furono dichiarati completati. Alle 8 del 21 ottobre, il missile R-16 lasciò l'edificio di assemblaggio per essere trasportato al sito di lancio. Un'ora dopo, il razzo è stato installato sulla rampa di lancio del sito 41. I controlli iniziali alla piattaforma di lancio sono stati apparentemente tranquilli e sono stati completati con successo entro il 23 ottobre. Lo stesso giorno, il missile è stato rifornito per il lancio. Normalmente, tutto il personale non essenziale avrebbe dovuto lasciare l'area. Tuttavia, secondo diversi risoconti, il maresciallo Nedeling e il capo progettista Mikhail Yangel hanno ignorato le regole di sicurezza e sono rimasti al sito. Con loro rimasero anche circa 150 persone, militari e civili di tutti i ranghi. Nel capo del NIP-5 di Turatam, il maggiore generale Kostantin Gherkic, nel secondo direttore dei test Grigoriand, sono stati in grado di far rispettare le regole di sicurezza in presenza del loro capo, Nedeling. Mentre proseguivano i preparativi per il lancio, i tecnici a terra inviarono un comando per attivare le membrane pirotecniche sulla linea ossidante del secondo stadio del razzo. Tuttavia, a causa di difetti di progettazione e produzione nel circuito elettrico del pannello di controllo, sono invece saltate le membrane sulla linea del carburante del primo stadio. Le piromembrane impediscono al propellente caricato nei serbatoi di entrare nelle tubazioni del carburante che conducono i motori. Di conseguenza, il team di lancio si trovava di fronte a un problema da risolvere in poco tempo. Per completare il quadro, oltre ai problemi appena menzionati, si aggiunse anche il guasto del distributore di corrente elettrica, di fatto interrompendo qualsiasi procedura avesse bisogno di elettricità. Il generale Gherkic affermò che a un certo punto la sua squadra aveva fatto una proposta per drenare il carburante e rimuovere il razzo dalla rampa di lancio, ma fu bocciata in modo categorico. Diverse fonti concordano sul fatto che dopo aver caricato il razzo con il suo propellente velenoso, il team di lancio dell'Are 16 abbia raggiunto il punto di nuovo ritorno. All'epoca non esisteva alcuna procedura scritta che permettesse di drenare il propellente dal veicolo. Intorno alle 18 ora locale del 23 ottobre, l'elaborazione pre-lancio è stata interrotta, in modo che il team dei tecnici potesse iniziare a sostituire le valvole e il distributore di corrente. Alla fine il lancio venne spostato al giorno dopo. La mattina del 24 ottobre, la direzione del lancio ha deciso di riprendere i preparativi. Sulla scia dei problemi con il pannello di controllo che attiva le piromendorane e il distributore di corrente, gli ingegneri hanno deciso di utilizzare batterie per ulteriori operazioni con le membrane. Con l'avvicinarsi del momento del lancio, i membri della commissione di stato si sono riuniti presso la stazione di controllo al sito 43, dove era stata allestita una terrazza in legno alla distanza di sicurezza di 800 metri dal sito di lancio. Tuttavia, quando è stato annunciato un altro ritardo di 30 minuti, Nedelin ha chiesto di essere accompagnato alla rampa di lancio, per capire cosa stesse succedendo. Testimoni oculari affermano che almeno due volte Nedelin ricevette chiamate dal Cremlino, forse dallo stesso Khrushchev. Quando i membri della commissione arrivarono alla rampa di lancio, Konstantin Gherkic ordinò di portare delle sedie. Nedelin si sedette a 15-20 metri dal razzo, in attesa che i lavori finissero. Alcuni testimoni affermarono che l'atteggiamento di Nedelin non ha fatto altro che innervosire e distrarre il personale tecnico e compromettere ulteriormente la sicurezza al sito. A quel punto, i problemi tecnici e la mancanza di tempo stavano spingendo i tecnici al muro. È stato necessario condurre contemporaneamente più teste e operazioni di prelancio. Sotto pressione, uno dei tecnici commise un errore. Un dispositivo chiamato PTR, che attiva i sistemi a bordo del razzo in una certa sequenza, è stato lasciato erroneamente in una posizione post-lancio. Questo comando, in situazioni di volo, accenderebbe il motore del secondo stadio dopo il distacco del primo. Quando il personale del bunker di comando scoprì che l'interruttore del PTR non era nella configurazione corretta, ormai le batterie elettriche su entrambi gli stadi del razzo erano già alimentate. Inoltre, erano state attivate anche le membrane sulle linee del carburante e dell'ossidante del secondo stadio. Quindi i componenti del propellente erano a una sola valvola di distanza dalla camera di combustione del motore. Un testimone nel bunker di comando ha riferito di aver sentito qualcuno chiedere, quindi dovrei spostare il PTR a zero? E qualcun altro in risposta, sì. Questa manovra attivò una valvola pneumatica a razionamento elettrico, innescando l'accensione del motore sul secondo stadio del razzo. Alle 18.45 ora locale e circa 30 minuti prima del lancio programmato, il motore del secondo stadio prese vita. Immediatamente la fiamma ruggente del motore esplose attraverso i serbatoi del primo stadio, dando inizio all'enorme esplosione del razzo completamente rifornito. In pochi secondi una gigantesca palla di fuoco a 1650 gradi del diametro di 120 metri ha inghiottito la rampa di lancio 41. Probabilmente molte persone sono state incenerite all'istante, mentre molte altre sono morte nei successivi secondi di un vero inferno. Testimoni oculari hanno descritto scene orribili di persone in fiamme che scappavano in ogni direzione. Alcuni non avevano altra scelta che saltare nei pozzi scavati intorno al complesso di lancio, solo per intossicarsi con i fumi velenosi rilasciati dal propellente. Pochi minuti prima del disastro, il generale Milikin invitò Yangle e Yosfian, un ingegnere leader dei sistemi elettrici, a fare una pausa sigaretta, a cui si aggiunse anche Bogomolov, presumibilmente per discutere la situazione. Pochi minuti dopo, al sicuro, fuori dal confine del complesso di lancio, Yangle e gli altri videro la catastrofe svolgersi davanti ai loro occhi. Nel bunker di controllo, nel frattempo, il generale Matrenin ha urlato ai suoi subordinati di non toccare il pannalo di controllo principale, cercando di preservare la posizione degli interruttori al momento dell'incidente. Sebbene le potenti esplosioni al sito di lancio siano durate per circa 20 secondi, il fuoco è infuriato per due ore. Il bagliore delle esplosioni e le fiamme dell'incendio erano visibili fino a 50 chilometri di distanza. Una squadra di soldati venne inviata per assistere nelle operazioni di soccorso. Un totale di 49 sopravvissuti sono stati portati in ospedale a Turatam e posti in terapia intensiva. Dopo aver appreso la notizia, Khrushchev ha ordinato a Leonid Brezhnev, alta carica del Soviet Supremo, di dirigersi immediatamente al cosmodomo con un gruppo di esperti per indagare. Alle 9 del 25 ottobre, Brezhnev e la sua squadra arrivarono al sito 41. Il missile era completamente distrutto, solo un moncone alla base aveva resistito. I corpi delle vittime, la maggior parte bruciati in modo riconoscibile, sono stati portati in un edificio per essere identificati. La squadra di ricerca ha trovato solo pochi resti che potrebbero appartenere a Nedeling. Il 28 ottobre, il maggiore generale Efimenko, comandante della base, firma un elenco ufficiale delle vittime, che rimase classificato fino agli anni 90. Secondo il documento, 74 persone, tra cui 57 militari e 17 civili, sono stati uccisi direttamente dall'esplosione. 49 furono i feriti, di cui 16 perirono in seguito per le ferite riportate. Quindi il bilancio totale delle vittime fu di 90 morti. A ottobre si tene il funerale del personale militare presso Turatam. Un totale di 84 soldati e ufficiali sono stati sepolti in una fossa comune, oggi nota come parco dei soldati. Le restanti vittime sarebbero state inviate nelle loro città di origine per sepolture individuali. Poiché l'intero incidente è stato tenuto sotto il più stretto segreto, ai paretti delle vittime è stato detto di dire che i loro cari erano rimasti uccisi in un incidente aereo. La commissione d'inchiasta ha concluso che la direzione dei test era eccessivamente fiduciosa nei sistemi di sicurezza del missile, il che ha portato a decisioni prese senza un'analisi approfondita. La causa diretta dell'incidente, afferma il rapporto finale della commissione, sono state le carenze nella progettazione del sistema di controllo, che hanno consentito il funzionamento non programmato della valvola che controlla l'accensione del motore principale del secondo stadio durante l'elaborazione pre-lancio. L'esplosione del missile R16 LD1-3T sarebbe potuta essere evitata se la riconfigurazione del distributore di corrente PTR in posizione zero fosse stata effettuata prima dell'attivazione dell'alimentazione elettrica. Infatti, il commutatore del PTR obbligava il passaggio alla posizione di lancio per essere commutato sulla posizione inerte a zero. Questo ha fatto sì che per un istante sia passata corrente attraverso i circuiti di attivazione della valvola di accensione. Come già detto, se le batterie non fossero state collegate, non sarebbe passata corrente e il missile non sarebbe esploso. In conclusione, la Commissione impose di condurre ulteriori test del sistema di controllo di volo del missile R16 e di rivalutare la sequenza dell'elaborazione pre-lancio per migliorare le misure di sicurezza. Inoltre, ordinarono di ripristinare la rampa di lancio danneggiata e completare la costruzione della seconda, prevedendo di riprendere il programma di test nel novembre 1960. Il primo decollo del missile R16 avvenne il 2 febbraio 1961, ma si schiantò per un guasto a 530 chilometri nord dalla città di Tomsk. Possiamo dire che il battesimo di volo di questo missile non è stato certamente dei migliori.